Vi va di fare un salto a Napoli, la città più allegra del mondo? A rappresentarla stasera con noi, un gruppo che ha saputo dare alla canzone italiana, napoletana, un sapore internazionale. Ascoltandoli si sentono riecheggiare i ritmi africani, sudamericani, il blues, il reg. Stasera, ospiti fuori gara, qui a Cantacielo, in EACO. Grazie. 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 Grazie.